Presidente 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 Perché non vuol commentare Presidente? Presidente 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 President direttore non so di che parliamo credi non so nulla però il presidente non ha voluto commentare non sappiamo niente ti dico stupitaci veramente non sappiamo niente non lo so e non te lo so dire io parlo per me non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione nel momento non sappiamo niente